Buongiorno a tutti, ora vi farò vedere come si fa a costo zero a fare una mascherina visto l'urgenza che c'è delle mascherine. Allora serve un po' di carta assorbente, un po' di carta da forno e un elastico. Il mio è molto lungo in questo caso. Allora, si prendono e si tagliano due fogli di carta assorbente. Si mette nel mezzo la carta da forno che è impermeabile in modo che gli starnuti verranno assorbiti dalla carta assorbente ma non passeranno la carta da forno perché è impermeabile. Si piega al di sopra e si pinza sui lati. Potete dare anche più di un punto, meglio è. Non badate a spese. Eccoci. Dopodiché bisogna piegarla a fisarmonica circa di due centimetri. È indifferente la misura. Eccola qua. Ecco qui. Voilà. E il gioco è fatto. Una volta piegata si attaccherà un lato, nel mio caso non annodo l'elastico, perché l'elastico è molto lungo. Quindi una pinzata a tutto il pacchetto da una parte e esattamente dalla parte opposta un'altra pinzata. Ecco qua. Allora, così la mascherina, si può dire che è già fatta, si piega e si apre nel centro. Centralmente ci metteremo il nostro logo negli abissi dell'isola www.negliabissidellisola.com Ecco qua. E la mascherina a questo punto è fatta. basta aprirla e indossarla. Come vedete è completamente aderente e formata alla perfezione. Quindi, ora sapete come si fa. A costo zero e quindi non ci sono più scuse. Usatela. Fate del bene a tutti. A presto. Grazie. Grazie.